la moto la macchina guarda se la sta a portare presto ori 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 o ori 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Guardate questo signore Sono qui che lo sto guardando in diretta Poveretto Acqua e grandine Ragazzi non ho mai visto una cosa del genere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti